potere pelato non è mai passato buonasera attacca la stream quattro minuti prima del solito no sono le 18 text filler 18 precise proprio come al solito come tutti i giorni e ciao a tutti come state bau bau micio micio che succede che succede che succede fai bene proprio se vedo che i tre meno che i venti stanno davanti a quella cazzo di tv a vedere canzone o su azufufu è nazional popolare il festival di sarremo c'è metà della gente lo guarda perché si diverte a vedere le canzoni metà della gente si lo guarda perché si diverte a prendere in giro chi guarda le canzoni è nazional popolare è sempre stato così a me non piace mi rompi i coglioni ma sai che roba no non è dissing a sarremo sarremo è sarremo è uno spettacolo ovviamente non è dedicato a chi segue i manga cioè per dire nel senso è una roba nazional popolare se la guarda chi ha voglia di guardarselo poi diventa di moda personalmente non comprendo cosa spinga la gente a farlo ma sti cazzi la gente guarda il calcio cioè e probabilmente molti di voi che si lamentano di quelli che guardano sarremo sono gli stessi che poi la domenica guardano le partite e fanno il fantacalcio con gli amici e vi lamentate di sarremo su dai su comunque a parte questo come state vi siete divertiti fate le cose bello no a me non piace poi ci sta per carità però mi fa ridere che si fanno tutte le le gare no tu sei più nerdi ma tu sei tanto siete tutti più meno nerdi ma a parte questo il fantapelato il tennis è bello sì io anch'io leggo un sacco quando mi annoio accendo la tv e guardo il tennis ah che bello il tennis no non accendo la tv e non guardo il tennis però a parte quello che bello il tennis in realtà sto cercando di capire perché il mio youtube no non ne ho due che cazzo lo prende sono inquietato perché il mio twitch ha deciso che il mio canale youtube è cantina pelata per qualche motivo e non capisco perché anche se qua mi da quello giusto devo scoprirlo ma lo scoprirò dopo in difesa o caverna eh what oddio no vi prego non parliamo di queste stronzate tipo il fantacalcio mi ha sempre fatto venire i brividi ma va bene a parte questo moto gp miglior sport di sempre sì certo ho visto saremo ieri da questo di vedere mahmud e bianchito bebè non so cosa sia si mangia cantina pelata mencia e non lo so perché ma non so dove lo prende non lo vedo da nessuna parte nelle nelle impostazioni di twitch è questo che non capisco cioè non so proprio non c'è mi metto in automatico e non capisco perché vabbè dopo lo scopo e cantina pelata sì 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 cantare è seminalissimo perché se ci carichi sa ah è vero perché è impostato per caricarci sopra le live che coglioni però quello è il secondo canale devo toglierlo e poi rimetterlo sì probabilmente sono i collegamenti del minchius in realtà lo si chiama perché non partecipa a brisa in colla sia ah sì ok e comunque ho dei pacchi tra l'altro questo pacco di amazon piacerà molto a leggo un sacco lo vedete c'ha un buco ah e tra l'altro oggi ho fatto il simpatico con il con il corriere no c'è un terro c'è il buco da entrambi i lati non so che cazzo ha fatto lo ha accoltellato probabilmente e dai certo e dai no intendevo perché è bucato quindi tu odi amazon perché mi rovina i pacchi in realtà non è amazon che tratta male i pacchi sono quei corrieri di merda ora vi racconto quello che mi è successo oggi col corriere ero seduto qua cioè appunto vedo il telefono notifica arrivato pacco di amazon e dico ok sarà arrivato in portineria in quel momento mi citofonano ed era il corriere di amazon perché boh la portineria non c'era si vede che in quel momento non era non era lì si vede che ha chiuso la porta e è andata a farsi le sue robe perché poi la prima volta era aperta la portineria e era il corriere di amazon che chiedeva se c'ero ora perdonami ma se io non c'ero visto che aveva già segnato il pacco come consegnato che stracazzo faceva infatti ho subito scritto ad amazon che lamentando mi diceva e mi hanno risposto si effettivamente questo comportamento non è assolutamente nei nostri standard andremo subito a controllare che cazzo è successo perché perché hai eliminato il povero vescera ci hai infilato il pene no ma ci stava è credibile come cosa perché che cazzo come cazzo è possibile che mi arriva un pacco bucato cioè me lo spieghi che con che cazzo l'hanno trasportato insieme a dei pacchi puntuti pacchi puntuti ah non lo so leggo un sacco è proprio bucato cioè è bucato da entrambi i lati perché la cosa è ridicola non ci avevo fatto caso ma c'è un buco da entrambi i lati probabilmente l'ha preso così con violenza non lo so che ha fatto il corriere non ha fatto niente però evidentemente il corriere ha prima segnalato che aveva consegnato il pacco e poi l'ha consegnato il che non lo può fare perché se io non c'ero e la portineria era chiusa il mio pacco che fine faceva lo infilava nella porta e lo lasciava lì non è la cosa proprio migliore che puoi fare a un pacco che devi consegnare di persona perché devi consegnarlo perché non lo puoi abbandonare no è che è proprio una cosa assolutamente inaccettabile purtroppo lavorano male parecchio male in Italia non solo nel resto del pianeta in realtà ma da noi lavorano veramente male e insomma non si fa bisognerebbe ci vorrebbe un po' di faccio il reso senza neanche aprirlo non guardo nemmeno se è a posto il pacco faccio il reso immediatamente è ovvio che se fosse rovinato il fumetto in modo non accettabile farei il reso prima guardo com'è no no è il corriere la portineria poverina probabilmente stava che ne so lavando i pia lavando le scale non lo so si reso perché il pacco è rovinato il mio pacco è rovinato ve lo rendo stronzi no un po' strano domanda se il mio abbonamento scade oggi per potermi abbonare sul tuo canale devo aspettare domani? teoricamente no perché non ti vedo più abbonato per cui teoria se non funziona adesso funzionerà fra qualche minuto minchè effettivamente stanno calando a vista d'occhio gli abbonamenti la bottega del nerd esatto cosa? chi? tecnicamente il pacco è parte del prodotto allora io vi dico se mi dite queste cose prima sospendo te e poi sospendo lego un sacco ma non diciamo non diciamo cazzate il pacco non è parte del prodotto fumetti ci sono pelati anche mi ritengo soddisfatto per la vostra sincerità grazie RonaldJuice123 effettivamente è così ciao Ramos oh Ramos mi avevi tolto il follow lo vedo ho visto che l'hai rimesso ieri non ci ho fatto caso adesso quindi mi seguivi ma poi mi hai smesso di seguirmi male molto male prima mi sono riabbonato ma non ha contato nel counter strano Arvion si vede che sarà sceso uno e salito quindi ho fatto sì non so perché sono stupido maledetto Ramos parte del prodotto nel canale di Amazon puoi scegliere anche i pacchi che vuoi certo ma poi me lo vedo ma scusi il prodotto è rovinato non lo so non l'ho aperto il pacco era rovinato grazie portello di zucca grande vi ricordo che se non mandate la cosa non mi appare nelle daily sub comunque per cui vi pregherei se vi riabbonate mandatemi il messaggino come ha fatto il tortello di zucca così arriviamo alle 7 daily sub e spendo dei soldi che è sempre bello spendere dei soldi mi piace un sacco spendere dei soldi ho una voce parecchio familiare è la stessa voce di pelati fumetti il noto youtuber su youtube se volete però vi faccio anche vi parlo anche come nel video di ieri che è venuto molto bene grazie a Arby non vedi questo volevo tra l'altro non si sta aggiornando funziona tutto molto bene l'ho aperto il programma sì ma non funziona ottimo spero che si aggiorni a un certo punto ma non le vede però non sta funzionando no invece sì ok ah ecco adesso sono apparsi perfetto ha la stessa voce di Segugio Mattarella eh chi si regalo ai sub ai non sub se regalo sub sì è uguale sale lo stesso e dicevo tra l'altro si sta avvicinando l'hypetrain se qualcun altro si abbona probabilmente parte anche e vedete perché fra l'altro quando voi mandate la notifica a parte l'hypetrain l'hypetrain funziona sulle notifiche non sull'abbonamento vero e proprio è furbo l'hypetrain infatti a volte te la rifa fare e quindi tipo due volte l'hypetrain è bellissimo però vedete adesso siamo già a 126 molto meglio e buh io ho l'abbonamento free tra due weeks ma quando vuoi vi la raccomando a me fa solo piacere se parte il train fa i ciuff ciuff ah no a proposito di fai i ciuff ciuff ma poi hai richiesto la partner no non ancora l'avrei richiesta dieci minuti fa ma c'era quel problema del canale youtube siccome ti chiedono qual è il tuo canale youtube non gli posso dire che il mio canale youtube è quello dove ricarico le live non è bello cioè non è bello non perché ricarico le live non è bello perché non è il canale principale per cui devo capire dove cazzo è quella cosa lì modificarlo e dargli il vero canale youtube se no non ha molto senso la domanda mi stesse spontanea dragon ball super lo stai leggendo? sì lo sto leggendo la saga di granola è monnezza anche secondo te? non so quale sia la saga di granola se intendi quell'ultima no perché io leggo in cartaceo e non su manga plus per cui boh non lo so odio leggere su digitale se posso evitare evito hai mai letto hai mai hero? sì ce l'ho tutto ce l'ho da qualche parte nello strambo universo attorno a me marin sì tex ok ok ci sono nuove icone queste sono le icone capre ma c'è un motivo perché ci sono delle nuove fantastiche ricompense lo stavo dicendo poi mi sono dimenticato perché mi avete distratto stavo dicendo esattamente stavo dicendo che ci sono le nuove fantastiche ricompense ispirate da da morte bianca il fumetto più bello che c'è perché adesso posso e finalmente ora posso dire a Mirko L che è una capra superstiziosa questa vedete o anche Adnker's Fufu è una capra superstiziosa che bello mi piace tantissimo capra superstiziosa che bello quanto è bello io lo adoro questa cosa ok ora metterò un limite alla quantità che ne potete riscattare perché se no diventa mi muore la voce però anche fratello Uldra è una capra superstiziosa e anche Arvio è una capra superstiziosa Dario Bellante ah no aspetta quella di Dario Bellante è diversa però un attimo fermatevi un secondo se no non ci sto dietro cazzo siete dei chatter esagerati datemi il tempo di farle se no me le perdo allora a chi è che non l'ho detto adesso vedete che siete cretini uno vi dà una cosa e ve la deve sempre modificare ahhh vi odio vi odio perché poi sono su questa modalità ho toccato il tasto allora quella di Azip per Azip Azip Anacleto sei una capra superstiziosa ok e l'altra adesso in realtà si vi amo però che cacchio rendetemi gestibile la cosa se ne fate mille io non riesco più adesso non so a chi non l'ho detto a chi non l'ho detto me lo dica eh te lo faccio vedere subito da dove nasce c'è tutta una lore dietro questa cosa che è doppia la lore perché fa ridere capra superstiziosa aspetta appena lo trovo dov'è dovrebbe essere tipo qui credo sì è chiaramente qui oh eccolo oh ecco capra superstiziose che non siete altro tra l'altro non vedete l'età che ha ora gli hanno praticamente cavato gli occhi il problema è l'età se era un adulto andava bene siccome è un ragazzino non si cavano gli occhi ai ragazzini non si fa agli adulti sì ai ragazzini no non vedete l'età che hanno non gli potete cavare gli occhi e ma è questo il punto perché vedete le capre superstiziose sono loro che sono due dei crowdfunder che io dico ok va bene che mi ci metti la faccia ma devi mettere proprio la faccia di questi poveri cristi come le due capre superstiziose comunque tutta la chat è formata da capre superstiziose credo di essere in pari ma non lo so grazie Arvion per i 5 sub ti voglio bene ora avrete 5 Umberto di caverna che gli urla con gioia a chi sono andati sono andati a Mark Scum che non so chi sia a Nico 98 che non mi ricordo se lo vediamo mai a Frank The Pug che forse c'era anche prima non lo so non sono sicuro non mi ricordo niente Ale Appiani non so chi sia e Bronzo Cimaru non lo vedo sicuramente da molto perché non me lo ricordo ah Mark Scum è qua non ce lo dice ma è qua ciao Mark Scum Dario no no Dario l'avevo detto Nicola TDS anche lui è una capra superstiziosa lo dico senza cosa lo vuoi senza cosa per fare questo no devo spendere soldi di già madonna che velocità vabbè dai ci sta lo facciamo con calma adesso nel corso della serata selezioniamo il coso quello di 50.000 è che per tutta la chat è formata da capre superstiziose no non serve a niente al suo è solo per spendere soldi ma il concetto è che siete tutti capre superstiziose se volete vi chiamo capre superstiziose per tutta la live quando viene usato lo metto uno no non lo metto uno a live e ho messo le capre nelle emote tra l'altro non so come funzionano le emote queste qui sono le emote per i follower ma si possono usare ovunque le emote per i follower non trovi le emote che hai riscattato non so quale sia fratello qual è le emote che hai riscattato siamo un greggio di capre superstiziose che non siete altri esatto esatto sono nel canale in cui hai followato ok ha senso no è che non le ho mai viste in giro per cui non lo so ma questo autore è uno youtuber si si è uno youtuber filosofo medico che voleva riscrivere il sistema scolastico italiano da quando mi hanno detto poi ho letto questa cosa non la trovo per una cosa divertente ah si l'italiano è una lingua ma i manga parlano in dialetto ciò che scende invece sparisce all'istante come se il mare stesso lo abbia digerito non avesse digerito lo abbia digerito non si è mai visto in faccia morte bianca o sbaglio pare di sì per quello che ne so non si è mai visto ma non ne so nulla non lo conosco sinceramente hanno appena lasciato un nuovo adattamento anime di bastard perché però sarebbe figo un adattamento di anime anime di bastard fatto bene sarebbe molto figo fra kirio e morte c'è una lore bella pesa in che senso si amano kirio in realtà è morte bianca ci starebbe c'è i capelli bianchi magari è lui insegretamente è morte bianca e kirio bastard è magnifico ma chi cavolo è sto morte bianca io non ti dico io non l'ho mai seguito morte bianca quindi non ne so assolutamente niente oddio bastard è magnifico è un po' esagerato diciamo che bastard cominciava molto bene fino a che adagiwara non si è non lo so credo è andato in pappa il cervello e a quel punto è diventato un po' eeeh eeeh e vabbè i kirio litiga un po' con tutti è abbastanza litigiosello il nostro dio greco preferito però ma morte bianca l'hanno pubblicato con quelle castronerie linguistiche eeeh eeeh anche perché non è mai riuscito a finirlo sì perché si è messo a fare le versioni porno del suo stesso manga e si è messo a fare a rifare i primi capitoli del suo stesso manga hai mai letto qualcosa di Suehiro Maruo? non ne ho idea penso di no non mi dice niente ma adesso guardo vediamo Suehiro Suehiro Maruo vediamo non è scritto così com'è che è scritto? aspettate che mi sono perso aspetta Suehiro con l'h Suehiro Maruo comettista wikipedia no mi sa di no è una roba molto particolare no non credo di aver letto niente peccato pittore illustratore disegnato cd locandina no 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 credo di non mi non mi sia mai finito sotto le mie manine unte e puzzolenti bella immagine però in compenso ho chiuso il canale Twitch bella così non vedo più un cazzo Umberto sai qual è il meme più ricorrente del canale Tokyo Revengers no dipende un po' cambiano Tokyo Revengers non è più molto di moda se non me lo chiede quasi più nessuno non lo so qual è il meme più vivo in questo momento sul canale ditemelo voi credo che sì adesso apriamo il pacco bucato credo che il meme più al momento il meme più in voga del canale sono le domande senza senso di Pepe Rug quella è un po' la cosa è infatti il meme ricorrente del momento è quello c'è ragione Jason perché sicuramente adesso arriva e mi chiede ma hai letto fumetto a caso preso dal catalogo Panini uscito 20 anni fa 15 anni fa già ma non neanche hai letto mi parli di questa cosa qua eh ma leggo un sacco ormai è diventato quasi banale tanto ormai lo sappiamo non dite Zagor non dite Zagor non si parla di Zagor che schifo basta Zagor abbiamo un sacco di meme su questo canale in effetti sta nascendo tutta una una lore particolare tra l'altro scusatemi la felpa oggi ma c'avevo freddo eh la richiesta dell'Omnus Terra X no quella non lo tiro più fuori ma allora io l'Omnus Terra X non lo tiro più fuori perché si spacca cioè continuare a tirar fuori il cofanetto mi si scassa secondo me lo chiedevano due volte al giorno è un pile è una roba brutta di Decathlon la portinaia è un meme ricorrente anche e volevi il meme un belto capa la superstiziosa grazie Cheval per l'abbonamento ma vabbè aspettiamo un attimo tanto ormai Ciro Pinuccio sta un po' comore eh Ciro Pinuccio fortunatamente ma ormai è stato degradato il mio zio non lo vuole più e quindi probabilmente non se ne parlerà mai più è più meme del gruppo Telegram ma anche Mad Mitch non parliamo di Mad Mitch su povero Mad tra l'altro lo hanno attaccato allora oggi ho visto il suo ultimo video non ne voglio parlare non voglio fare action o roba del genere a me è spiace per lui cioè io vorrei che si mettesse un po' l'anima in pace e smettesse di fare continuamente polemiche sul fatto che lo attaccano eccetera perché non lo attaccano boh Icons per finire là ci sarebbe bene grazie ma Icons questo dici? cioè quelle di le cose di Jim Lee? intendi? questo? questo che sto accarezzando mi si sta tendendo questo muscolo qua e mi fa un po' male fra un po' mi farà molto male e non muoverò più il braccio per una settimana prima di Paperag prima che Leggo un sacco diventasse quasi banale c'era quell'altro utente che non è strano e che si è offeso quando se n'è andato sì Crada dov'è Crada? Crada torna da noi Crada se vedete questo messaggio da qualche parte fate una clip torna da noi ci manchi non ti banno più TVB torna da noi torna da noi anche Cristian ma Cristian l'abbiamo bannato Francia mi sta sulle palle Francia è fastidioso non è nemmeno un troll è proprio fastidioso ho ordinato oggi Wolverine nemico pubblico perché mi ispirava tanto è carino un nemico pubblico che è una bella lettura non è che sia il capolavoro della vita però Cristian era ragazzo oddio magari è morto no speriamo di no cioè boh Malus è semplicemente un ragazzino e fa casino per quello io vengo in tanti self stream Cristian vedi non viene più qua perché l'ho insultato troppo mi allontano dal mio pubblico comunque andiamo in ordine iniziamo a aprire sto coso vediamo se è sano o se devo fare un reso Amazon spero vivamente di no che non c'ho voglia per ora sembra sano vedendolo così comunque è è la montagna di fuoco beh oddio qua è un po' abboccato non lo cambierò per questo la montagna di fuoco evviva non ha particolari problemi no direi di no no mi va benissimo così ok va bene perfetto e v no reso subito sto cazzo proprio niente ah sì no così leggo un sacco non lo vorrebbe mai a me frega oggettivamente cazzi che sia un po' un po' sbattuta la copertina ma così va più che bene e grazie Domingo945 benvenuto cazzo del follow e grazie anche a Colors73 che non è ancora apparso ma adesso appare no non è vero però c'è ah ecco ciao Colors73 bello cos'è è un nuovo manga di Tezuka no è un manga di Tezuka inedito e dovrebbe essere una roba piuttosto particolare perché in pratica ripercore alcuni fatti stores cioè fatti veri alcuni tipo romanzi o robe così un manga strano di Tezuka un po' caro perché costa 18 no ma perché Lizard dovrei recuperare anche l'altro di Rizzoli Lizard sinceramente ne me ne manca uno quello che ha tipo un Luciadores sulla copertina che non so se è davvero un Luciadores è particolare comunque una roba ma vabbè Tezuka ha fatto talmente tanta roba è un'opera seminale secondo me è un po' sì abbastanza seminale guardate questi alberi come sono seminali però guardate che belle che erano quando Tezuka aveva temporamente tempo per disegnare no e allora faceva questi panorami molto bellini poi gli sfondi sui personaggi non li faceva però si metteva a fare le cose così Antonio dai che brutte su un po' meno grezze eh pochino ciao Tex un bel te lo consigli Buddha di Tezuka sì non ho ancora finito il primo volume però sì lo consiglio mi è piaciuto solo che mi siano bloccato ah mi capita ogni tanto ma che bello probabilmente queste le faceva qualche qualche sono un caffo è un po' sì disegnava comunque più sfondi beh no dipende ha le pozze dipende dai manga cioè considerate che Tezuka faceva tantissimi manga contemporaneamente questa è la stessa tavola ribaltata sì non era così matto però è molto bello comunque e sono tanti episodi scollegati sono non so quanti non c'è l'indice da qualche parte davanti o dietro no no non è solo una parte perfetto sempre meglio dei rettini di My Rest Up Darling sì quelli non mi sono proprio piaciuti però vabbè non è che posso giudicare tutto da quello però oh bello anche il la copertina così immagino di qui c'è l'altro lato l'altro lato sì oh ma che bello ah eccolo qua c'è qua posso vedere il cazzo in cui mettere l'indice perdonatemi però c'è anche questa cosa che ti fa capire la postfazione leggila da questo lato poi gira il fumetto e leggila dall'altro lato ok mi ricorda ma tutto eh vabbè fa un po' le montagne della follia questa cosa un po' certo che mangaka di una volta facevano un sacco di lavoro oggi ne seguo uno erano mille assistenti ce li avevano anche allora gli assistenti hai mai fatto mi chiedono se ho mai fatto perché mi chiedete le cose in canale su telegram mentre sono in live ora glielo chiedo glielo chiedo in diretta scusatemi appare strano aspettate appare strano ma sono le 18.30 e sono in live non mi taggate mentre sto in live magari venite in live curicino carino così perché sono un bravo pelato chissà chissà mi chiedete un documentario su tezuka magari in italiano non ne ho la minima idea non ha fatto niente dario darione mocia non ha fatto niente magari lui queste cose le fa qualcosa su tezuka mi sa che esisteva non lo so beh d'altronde comunque ha fatto talmente tanta roba tezuka che che da kirio comunque fatelo fare da kirio proponiglielo prossimo libro di kirio un documentario su su cosa cioè kirio è super innamorato di tezuka per cui figurati sicuramente ne sa di questo qualcuno allora non so se stasera kirio fa la live qualcuno mi impedisce di andare in live da kirio questa sera non che non voglia ma ho bisogno di fare delle robe o al meglio dormire invece perché non ce la posso fare di stare in live anche stasera sono veramente un po' blackjack quindi impeditemelo domani ah non è mercoledì è vero scusatemi io sono convinto sia giovedì e lo so lo so sono convinto che sia giovedì oggi vai live che devi fare follow sono nella mia mente sono non vado da kirio questa sera non ci vado neanche per il cazzo allora una cosa la chiedo qua ecco grazie lupo ho iniziato leggere gli onimus degli x-men di clermont dove devo arrivare per poter leggere le storie successive cosa intendi per le storie successive perdonami non hai bisogno di leggere le storie qualcuno proponga il video che risponde a questa cosa un bel video su tezzo che è stato fatto da un piccolo canale youtube chiamato osselott i video di osselott io lo seguo poco ma non riesco a guardare i suoi video e non riesco davvero a reggere la sua parlata è una cosa che mi uccide mi spiace ma proprio non ce la faccio c'è qualche uscita che attendi davvero più di altre quella che davvero non vedi l'ora di leggere non lo so in questo momento cosa c'è che aspetto tanto no di nuovo immagino sanctuary la ristampa di sanctuary che sanctuary io ho letto tipo due capitoli in tutta la vita quello aspetta un sacco che esca quello mi incuriosisce veramente tanto se parliamo di fumetti americani l'ulk di kate's voglio assolutamente leggerlo perché secondo me sarà totalmente fuori di testa e quindi aspetti molto sì molto quello tantissimo konami can't communicate sì anche comunque nessuno ha suggerito il video giusto per rispondere alla domanda di Luporno quindi gli risponderò non funzionano così i comics americani tu puoi leggere tutti i fumetti che vuoi senza aver letto le parti precedenti perché i fumetti americani sono scritti in questo modo apposta non è che per leggere le storie degli anni 90 degli x-men tu devi leggere le storie iniziate nel 75 perché capisci che non avrebbe senso tanto più che oggi si fanno un sacco di ristampone super pregiate una volta ne facevano anche meno no non ce l'ho Black Orchid credo non devi suggerire video in live altrimenti va via sì ma non è che posso ripetere sempre le stesse cose poi comunque magari si ritiene la live aperta sotto comunque dicevo questo mi apre un mondo esattamente dopo rispondo anche a quello i fumetti americani nascono per essere seriali e per essere facili di approccio tu non hai bisogno di leggere è come quegli stronzi di youtuber di merda e streamer di merda a cui la gente gli chiede ehi ma io voglio leggere Spider-Man cosa devo leggere ah guarda devi assolutamente comprare i primi masterworks perché se non ti sei letto le storie di Ditko e Stan Lee degli anni 60 ma come puoi sperare di leggere le storie di oggi di 60 anni dopo ma per i numeri che sono usciti sì non sono malvagi ma sì tra l'altro tutti i fumetti in Italia i fumetti hanno tutte le note in America nemmeno ce le hanno ma nella maggior parte dei casi ti dicono anche in ogni numero ti spiegano chi sono i personaggi quasi certo è ovvio che se inizi da metà di una saga diventa più complicato l'ideale è iniziare a leggere dall'inizio di una run cazzo duro ban è la mia parola bannabile preferita nel senso che ti banno quando banno le persone che mi fanno domande idiote ma infatti non ha senso lo porno questa cosa ma perché è ovvio che allora quando leggi fumetto americano tu devi avere presente una cosa tu non saprai mai tutto cioè se tu vuoi sapere tutto quello che è successo a Peter Parker non dovresti nemmeno leggerti soltanto tutte le storie di Spider-Man dovresti leggerti probabilmente metà delle storie scritte dalla Marvel dagli anni 60 oggi e non è credibile il punto è che il lettore di comics deve accettare il fatto che ci saranno sempre delle cose che non sai usate Marvel Unlimited ma no ma nemmeno quello fratello Uldra no non è usate Marvel Unlimited è una cazzata il punto è che non devi leggerle non c'è la necessità di leggere le storie prima aiutano se ti piacciono te le leggi ma certo che puoi iniziare la saga del clone senza aver letto niente prima ma sicuramente ma cosa devi leggerti prima cioè alla fine è Peter Parker è Spider-Man lo sai quando ti dicono quando appare il clone di Spider-Man che in Italia in America era uscito penso quindi vent'anni prima probabilmente non è che la gente che leggeva i fumetti in quel momento la maggior parte non li aveva letti ai tempi quei fumetti lì te lo spiegano è una citazione e nel fumetto stesso ti raccontano com'era andata la cosa perché è fatto apposta e considerate che ho preso tutti e quattro i deluxe di Spawn di Spawn mi consigli di acquistare anche il nuovo rebuild che esce ora e non l'ho ancora letto volta per cui non so com'è non ho idea nemmeno di come funziona per cui boh se hai voglia di leggerti le storie moderne sì alla fine il discorso è sempre quello puoi farlo perché anche quello è fumetto seriale e quindi lo puoi leggere più o meno dal punto in cui preferisci e questo è il grande lato positivo in realtà del fumetto Marvel o DC o americano in generale è come D-Landog se tu vuoi leggere D-Landog non è che devi leggere D-Landog dall'1 fino al 425 tu puoi andare in edicola prenderti il 425 e lo leggi da solo con i supereroi non è così una volta era così anche con i supereroi in realtà cioè una volta la maggior parte dei numeri erano autoconclusivi negli anni negli anni 80 la maggior parte delle storie erano autoconclusive negli anni 90 hanno iniziato a fare molte più storie che continuavano oggi sono praticamente tutte minisaghe di 5-6 episodi al 90% 99% delle uscite questo perché perché comunque una volta se tu prendi un fumetto degli anni 80 te ne rendi conto a vista che diciamo che parlavano un po' di più rispetto a quanto succede in un fumetto di oggi per cui ovviamente il tempo di lettura era più lento si dava un po' meno importanza all'approccio grafico nel senso alle pagine super fighe super fighe le splash page erano poche oggi spesso gli splash page in un volume ne trovi metà delle pagine quasi profili asgardiani volete sapere tutto su sif ecco oh guardate chi c'è gli eterni o i men chi preferite oggi in usa è uscito il primo numero di monkey prince prince si ti interessa damuri dai è il solito fumetto è il solito fumetto allora magari è bellissimo molto probabilmente è il solito fumetto fatto per cercare di trainare il pubblico cino americano una volta ci saranno grandi autori no no fratello devi capire che oggi i grandi autori fanno tutti cagare tipo ikman come diceva oggi leggo un sacco nel quadro del telegram è uno che cioè è criptico non si capisce un cazzo se non fosse ikman e leggo un sacco vogliamogli bene così abbracciamolo e diciamogli sì va tutto bene Umberto hai visto la seconda parte di i men su netflix sì carino mi è piaciuta non me la ricordo già più l'ho già rimossa però mi è piaciuta comunque spero siete contenti che potete spendere tutte le vostre fantastiche lo dicevano in tanti è opinione condivisa ma anche no non mi pare proprio spero che aviate gradito la nuova modo per scaricare i vostri punti comunque e comunque chiamiamolo ikman non è davvero criptico ha iniziato così non è diventato criptico sì a parte quella se ti piace quel personaggio puoi sempre recuperare qualcosa come ho fatto io con mi sono perso con rogaz oddio dopo la sub mi sono bravo luporno bravo così si fa viva il potere pelato ciao a tutti e l'ho vedan nan ikman è uno che ormai deve fare le storie per le storie complicate altrimenti non è lui no è che è il suo stile leggo un sacco cioè è il suo stile di scrittura fa quel tipo di cose lì e infatti è molto amato per quello perché fa delle trame molto complesse molto particolari e originali se non ti piace ci sta con la ricompensa secondo me cosa succede niente jason semplicemente dico che tutta la chat è formata da non lo dico ma se no poi comunque vi chiamo tutti capre superstiziose ma tutta la chat non soltanto te personalmente ma tutti è una cazzata lo so ma è divertente così è che vi ricordo che comunque se fate una donazione potete apparire in questo canale con la vostra foto con sottoscritto sono una capra superstiziosa se volete facciamo questo gol no per sé eccole capre superstiziose che non siete altri ricompi ok tutta la chat è formata da capre superstiziose allora lo dico meglio aspettate tutta la chat è formata da capre superstiziose grazie è il nuovo meme del canale sì però devo mettere un minimo di limite tipo devo mettere il cooldown aspettate che lo faccio subito se no poi mi dimentico ansia si metto il cooldown perché se no poi diventa troppo allora aspettate lo trovo non mi ricordo più dov'è ma l'ho fatto prima per cui dashboard autore allora ricompense spettatori punti canale dov'è perché non li veda gestisci le ricompense allora capre superstiziosa normale mettiamo 5 minuti di cooldown perché se no diventa mortale numero 5 minuti non metto limiti per un sabo ok e al capo superstiziose di tutta la cosa invece mettiamo una cosa un po' più importante 10 minuti 10 minuti va bene no non credo che abbia venduto molto Elore Danan perché non si trova da nessuna parte questo è il problema c'è la distribuzione non so come ha funzionato ma io conosco persone che volevano leggerlo e non sanno dove trovarlo no non mi è piaciuto è tipo il peggior fumetto del 2021 non ho ancora fatto la Elore Danan ho fatto anche 24 ore di live per cui non è un problema farne 12 ho fatto 24 ore di là di là di là mi sono rotto ho fatto 24 ore di live partendo alle 24 e finendo alle 24 del giorno dopo quindi dopo una giornata in cui ho fatto anche una live su Astromica per cui è fattibile quindi fammi capire quanti comandi servono soltanto per farti sì esattamente fratello Uda servono esattamente solo a questo siete contenti? ma considera che i punti canale non servono a niente per cui facciamo una maratona con lo show cooking annesso due piccioni potrebbe essere un'idea che val però non posso farlo diventa troppo cioè devo stoppare la live e farla ripartire perché non ho un cioè non ho modo di fare la live da qua e anche in cucina la cucina sta dall'altra parte della casa non è qua avessi la cucina in sala potrei farlo nella maratona di Wow c'ero la maratona di Worldcast era stata intensa un anno fa più l'esplorazione dell'armale tutti insieme continuo a staccare riattaccare spostare capite che non è fattibile hai fatto 24 ore di live sì sì cioè ammetto che in alcuni punti era tipo così la live cioè c'ero io che giocavo era molto bella però si è fatta con piacere che ne pensi di Blankets di Craig Thompson l'ho letto anni fa nella sua versione allegato alla repubblica credo di non averlo mai letto Blankets di Craig Thompson per cui non ti so dire ricordo che prendevi sonno sì sì minchia ah beh io non c'ero quando hai fatto la super live comunque ti confermo che basta andare sul sito linkato da youtuber morte bianca per comprarlo eh devo dirlo a a Emanuele allora passa il link a un sub se ce l'hai anzi adesso lo cerco scusatemi andiamo subito sul canale di morte bianca esiste un canale di morte bianca il canale di morte bianca c'è morte bianca morte bianca avete visto che esce il nuovo oh questo devo vedere questo video ma lo guarderò dopo comunque esce il casco del mandaloriano lego se qualcuno lo vuole e il martello di Thor lego oh che bello abbiamo il sito mica 200.000 iscritti c'è a morte bianca mica due però non so dove guardarlo c'è Matrix ah fa anche i video di Matrix la spiegazione del finale di Matrix di cinque anni cinque anni fa ha fatto un video per spiegare il finale di Matrix beh mi sembra utile però forse in community magari c'è qualcosa c'è scasi animatori per una creepypasta molto particolare bah non saprei dove trovarlo ma qui siamo già nove mesi fa no non è possibile boh no no non faccio le reaction a morte bianca non so nemmeno di cosa parla c'è anche un video con la bicocca e morte bianca e crepaldi odio crepaldi a parte questo è ancora vivo crepaldi oh ecco guarda qui c'è quinto contest di morte bianca magari c'è un link qua sotto vediamo allora il mio negozio Amazon maglietta il mio prossimo il mio prossimo libro in che senso il mio prossimo libro ah no ok un link al suo prossimo libro beh utile se il libro non è ancora uscito il mio negozio Amazon si ma non non che lo ci sia perché non c'è su Amazon e quindi boh dove lo trovi è introvabile magliette boh non lo so non sarà un'attima fa funzionava sono andato adesso ok perfetto quindi niente non lo scopriremo mai non lo vedremo mai oh no non avremo mai il fumetto di morte bianca ma io ce l'ho ce l'ho guardate ho anche l'esclusiva versione limitata edizione limitata non potevano fare una copertina variant cioè o uguale ma che bru lui c'ha la maglietta edizione limitata fondamentalmente è tristissimo mi tristisco apriamo un pacco apro l'opacco ah è evidente che non farò le uscite di marvel della settimana ormai però apriamo l'opacco che è bello ha la maglietta di Luca ma no è di Cartumix non è di Luca Cartumix Cartumix però per Luca potrebbero fare una versione alternativa così mi sono perso fai ancora cosplay di Phil Anselmo Matteo Mondora spero sia una battuta divertente ma non la colgo se vuoi spiegarcela ci ridiamo insieme ma non l'ho capito no no come non intendo recensirlo è il prossimo video che esce devo solo ritrovare il tempo c'è la forza mentale di farlo spero di farlo questa sera se no faccio un altro video e poi lo faccio un altro giorno però è intenso fare un video così oh aspettate facciamo così oh questi li ho presi su Mondadori che erano in sconto stasera sono da Chirio giusto perché oggi è giovedì e a giovedì c'è il pub di Chirio il pub di Chirio ma che fumettone gigante non pensavo sia così grosso ne ho pagato il 50% perché sono tipo avanzi di magazzino e uno è Mari Yamazaki Phil non mi ricordo più chi è Mari Yamazaki però avevo già letto qualcosa ma non mi ricordo cosa bello fa è un fumetto ASMR sembra un vecchio manga planet sì sì devo comprare un fumetto fratello Uldo adesso dopo questa cosa qua lo compriamo prima guardiamo questo no ho sbagliato fumetto sì sì è la tizia di Terme Rome mi sono ricordato anche io in realtà al 30% ho preso dei 100% Marvel figo ma io ho guardato quando mi sono accorto che c'era il coso invece c'era l'offerta sul sito della Mondadori ho detto ho guardato un po' tutta la lista ma c'era veramente poca roba che mi interessava alla fine ho preso due cosine uno era questo che costava in origine 16 euro l'ho pagato 8 alla fine è un manga grosso per 8 euro più o meno il prezzo di un tankobon ma formato grande e devo dire che non mi ricordo di cosa parla però Maria Mazzaki mi piace come autrice sto leggendo il suo manga nuovo ho letto Terme Rome per cui sì sì non è male vorrei avere vorrei un figlio da te no chi lo partorisce io non lo partorisco se vuoi il seme te lo vendo però io non lo partorisco al tempo di papà no cos'è al tempo di papà è di coso come si chiama non mi viene ho un buco Taniguchi sì scusate lo sapete che la mia mente funziona male no ma io di Taniguchi purtroppo ho letto pochissimo ho questo dramma della del non aver letto quasi nulla di Taniguchi ho letto praticamente soltanto allevare un cane era allevare un cane credo di sì aspettate che c'è qualcuno che mi manda un messaggio privato mi ha consigliato uno turatubi non lo posso usare Mark lo so tu puoi ma io no mi spiace ma ho dei problemi è problematico problematico mi esplode il collegamento fra il tubo fra il lavandino e il tubo se ci butto l'aria dentro è impossibile cioè dovrei farlo con il muro e non dalla lavandina sono infattibile ma anche no ma anche no ah ok era Taniguchi mi sembrava fosse Taniguchi ok non era non era allevare un cane era l'uomo che cammina che ho letto grazie Manuel che ti ricordi cosa ho letto stura youtube sturami il tubo suona male ti sturo il tubo grazie Mark comunque per il pensiero sì ma il problema è che i manga di Taniguchi sono un po' troppo cari e non ho voglia di spenderli perché non sono proprio il mio genere geniale preferito e quindi mi scazza spenderci 22 euro a botta è una cosa che mi scazza un po' e quindi non lo farò ma magari prima o poi sì infatti dovevo prendere quelli che uscivano in edicola è sempre uno dei più grandi di rammarici non aver preso quelli che uscivano in edicola dovevo prendere quelli in edicola quelli costavano poco hanno fatto quasi tutti i suoi fumetti mi giocano ancora i coglioni di averlo fatto però carino questo mi piace è uno stile strano non ho idea di cosa parla leggiamolo scopriamo di cosa parla no questa è la grazie al canale di Sovin per il ride sempre carissimi stiamo guardando un fumetto che ho comprato oggi anzi due Phil di Mari Yamazaki e Ozamu Tezuka le montagne di fuoco ciao Tanino Pisano ciao basta potere pelato allora lui è un pelato che però non ha capito il potere pelato cioè lui non emette potere pelato dovrebbe togliersi questi orpelli i masugli della sua precedente vita da Mondadori Online non comprate per carità oddio io ho comprato e ci ho guadagnato cioè le ho pagate al 50% massa in generale non compro su Mondadori perché compro su Amazon se devo comprare fumetti però Umberto Umberto grazie a Kir 1979 per l'abbonamento grande quattro mesi infatti mi sembrava un nome conosciuto ho detto l'ho già visto si arriva su Tazuka come mai il 50% perché probabilmente sono rimasugli di magazzino sono fuori produzione immagino e quindi possono tagliare i prezzi c'era tutto un un elenco di roba non è che c'era tantissimi fumetti no in realtà c'erano tipo 8 pagine di fumetti però la maggior parte erano robe che non mi interessavano particolarmente ma non mi sembrano così pessimi i pacchi dai sono pacchi è un pacco non è particolarmente peggio di un pacco Amazon no? e lo sfondo gli piace quasi no eh no ma sono d'accordo che le opere di Tani Gucci andrebbero lette il problema è che sono erati strapiegati purtroppo tutti ho volumi presi non lo so questo qua è messo bene considerando che comunque sono avanzi di magazzino per quest'anno lì chissà da quanto tempo quando è uscito questo? ciao castre hai ancora il creme indurato? beh sì è sempre quello grazie a Massa che mi ha seguito e anche a Asterel Rond grazie stavo vedendo questo qui è uscito nel 2014 in teoria vabbè sono 8 anni fa non vuole metterti a fuoco no no è che è un casino è vero probabilmente ma in realtà fa casino la telecamera questa qua vabbè è una logitecchina però è carino l'altra cosa che ho comprato invece è un artbook della Pavesio ne ho già preso uno in realtà su Amazon in sconto ma non c'è più è caduto un fumetto scusate stavo non c'è più ah no è qua ecco sì infatti è la stessa identica stessa identica edizione e sono questi artbook piccolini ma di grande formato in versione brossurata che palle perché mi mettono le cose dentro adesso devo cancellarla live che coglioni che dupalle non si è visto ok comunque lo cancellerò mai dopo controllerò che ora era un minuto un'ora e uno ok comunque diceva aspetta che secondo me è pieno di tette ho questa ho questa sensation aspetta che è lontano ok fatemi vedere se è guardabile in live però va sì non vedo tette donne poco vestite ma non tette anche supereroi ma che bello figo questo bello allora Lucio Parillo Parillo edizione doppia edizione vabbè con la qualità è sempre un po' così ma anche quello di Amazon è un po' così sono libri vecchiotti io volevo le zinne eh vabbè ma poi non si possono vedere su Twitch poi sapete che se un bambino vede una tetta disegnata mentre è su Twitch casualmente gli esplode il cervello funziona così oh molto figo questi non so sinceramente da dove arrivano c'è anche scritto in realtà giochi di ruolo dov'è l'italiano ah copertina per arabic è in quattro lingue questo addirittura adesso manca solo il codice del citofono e abbiamo tutto ottimo ma è arte non è un problema fratello Uldra su Twitch ti bannano per cui è un problema ma questo è Capitano Universo sì è una cover inedita per Capitano Universo del 2005 madonna Antonio oh guarda c'è anche Logan ma non c'è no ma non c'è colori questa che peccato c'è solo in bianco e nero la parte con Wolverine questo sembra un po' Hulk 2099 poi è Doc Samson c'è Scarlet Spider la Final Fantasy 4 è Hulk cioè si è Capitano America direi World War Hulk ma non me la ricordo ma c'erano queste tavole in World War Hulk dovrei recuperarmelo è una sua boh vieni alla fiera del fumetto di Saint Donne no però boh dipende da come le disegni fratello Ulda probabilmente comunque no di base non è proprio il caso proprio bello però mi piaccio è molto bello questo Wolverine c'è anche Gesù no ma questo no è di Warcraft anche questo ma sono cose delle carte ah sì sono per il gioco di carte ciao basketman no ma che bello Hulk bello mi piace devo dire tra l'altro l'ho pagato costava 15 l'ho pagato anche questo 8 direi che ci stava au non era Iron Spider sì sì era Iron Spider e lui è un illustratore qui ne ha fatto un po' di tutto ovviamente non lo porno controllati non dire cose per cui poi io vengo attaccato per favore comunque ribadiamo facciamo facciamo tutti pace con Madmich vogliamogli bene e soprattutto non attaccate i canali di Madmich iscrivendovi e disiscrivendovi che è una cosa molto poco carina qualcuno sa quali e quanti saranno i volumi totali dei Marvel no Michele 22 non esiste un totale dei volumi li fanno mese per mese ne faranno finché vendono non c'è nemmeno il numero in copertina per cui Manuel ci vengo quando compi 16 anni e posso farti bere minore emancipato non lo so in Italia qual è l'età per bere in Italia 18 non lo so io non bevo a parte che bevono tutti a qualsiasi età ma in teoria legalmente non ho la minima idea soprattutto un'altra cosa non comprate tutti i must have vi prego non è proprio il caso perché tanti must have sono molto molto belli tanti altri must have sono molto molto non belli per cui bello mi piace come abbiamo tante idee ma confuse io bevo acqua da quando sono nato anch'io anch'io anche perché non ho i soldi per permettermi da bere cioè vi rendete conto di quanto costa comprare tutti questi fumetti vi pare che ho anche il tempo tipo per fumare bere no l'ultimo che ho preso Secret Invasion molto più mi è molto piaciuto anche se non ho capito una minchia effettivamente Secret Invasion Temo non sia proprio la cosa più comprensibile senza aver letto niente però c'è di peggio c'è ad esempio come cazzo è assedio assedio non ha proprio senso cioè assedio è una roba che letta da sola non ha un cazzo di senso bevo solo latte io lo amo il latte ho finito il latte signor Antonio fatti mandare dalla mamma a prendere il latte ne ho bisogno devo fare la spesa vino più formaggio più salumi più batman una serata bellissima beh in effetti sì ma non bevo vino il miglior must have secondo te no secondo me non è non è sicuramente nemico pubblico per quanto sia una bella storia anche perché ci sono cose come rinascita c'è cos'altro c'è must have anche soltanto devil l'uomo senza paura civil war planet hulk no non li metterei così in alto arma x che esce adesso ah planet hulk per il rapporto qualità prezzo è ottimo sicuramente meglio arma x di l'ultima caccia di kraven giusto marvels marvels è riuscito giusto requiem non è ancora riuscito ma anche quello requiem mi fa molto incazzare perché lo comprerò dopodiché panini ristamperà i grandi tesori marvel lo so non lo so però guarda un po' se ne sono già andate appena l'hai chiesto sono arrivati a 93 per cui forse sono andati a leggere per seguire il tuo consiglio c'è anche diavolo custode vabbè sì carino ma non così fondamentale arma x settimana prossima comunque vediamo un po' cosa mi devo comprare allora come si fa solito discorso mi serve il file di testo e poi la la roba no aspettate che lo recupero ah qua mi serve il numero casual numero casual numero casual ok ce l'abbiamo questo ve lo posso già mettere in teoria dovrebbe esserci già numero casual perfetto va bene abbiamo il nostro numero casual voglio vedere qua che numeri devo fare perché non ho idea te lo fai il Sanremo con i tuoi amici ma ti pare a parte quali amici ma a parte questo ma poi no ma che palle ma ti pare che seguo Sanremo no 100 no perché sono tipo 71 credo che va ma devo controllare perché non mi ricordo a memoria un attimo che controllo quanti numeri sono allora dove cazzo sta Google Drive vi ricordo che potete anche guardarla online il numero non mi ricordo c'è il link non mi ricordo comunque lista fumetti lista fumetti sub eccola qua tabella regali ok ok eccola qua allora sono esattamente 70 70 quindi devo generare un numero da 1 a 70 ok pronti siete caldi siete pronti a un numero da 1 a 70 generiamolo 8 il numero prescelto è 8 no non lo aggiungerò Jason perché non c'è su Amazon se no lo aggiungevo ovviamente allora ci tocca adesso catturare l'altra scheda ovvero dove cazzo è questa ok grazie a Xabas18 per il follow e vediamo che numero sarà è l'8 ed è Cinevaria che costa 6 euro e 63 evviva vediamo se esiste ancora è Cinevaria non so cosa sia ma raga tenetevi le sub per domani e vediamo domani 8 però come dico raga basta con la storia della truffa vi banno già l'altra volta non mi ha fatto ridere questo discorso oh Jason ci sono robe da 40 ci sono cose da 6 se no è la mia lista regali che va grazie anche a docstrange 19 per il follow allora la mia lista regali ah tra l'altro ho anche aggiunto la lista regali ah no questa è la lista fumetti brutti scusate in fumetti brutti ho messo super easy di cabilame e pietrozemelo se volete regalarmelo faccio la review fumetti brutti eh ho capito sono 70 chissà quando l'ho messo finati i fumetti in lista regali ok eccolo qua magari non è disponibile non si sa mai Cinevaria no c'è c'è è un fumetto shockdom ce n'è solo uno venditore shockdom europe però spedizione amazon ma è in italiano sì non voglio vedere shockdom europe e vabbè ce lo ordiniamo aggiunge il carrello quello ce l'ho il famoso no è il tiktoker non è si chiama procedi all'ordine procedo si carica sì perché mi chiede l'indirizzo lo sai l'indirizzo ecco è sempre quello sì intanto si rincoglionisce youtube youtube amazon ma batman dannato non lo avevi già letto sì però ce l'ho solo nell'edizione brossuratina brutta e quindi se mi vorrei comprare il volume perché è bello però non me lo compro con i miei soldi ciao pelati sono docstrange 19 della confrateria del vecchio nerd benvenuto ciao e ok acquista ora sbam l'ho comprato evviva aspettate che che bello sono molto contento adesso merita merita un disegno di bermeggio beh sì parlare su kickass ti avevo letto ma poi non ti ho risposto bello kickass a me è piaciuto molto mi è piaciuto molto più il fumetto del film soprattutto il primo poi andando avanti si è un po' perso no domani riparto da zero sceval sennò non c'è gusto perdonami cioè capite che se fosse così non spenderei tutto quello che guadagno su twitch in fumetti extra non ha molto senso invece siccome è il gioco di se arriviamo a il sub però domani sono 8 non sono 7 perché sale dov'è il mio icons ma sarebbe questo sempre text icons intendi questo rispondi rispondimi perché sennò io continuo a dire ma è questo icons non mi risponde beh è bello perché non mi risponde questa è la cosa che mi piace ah ok va bene perché non sono a fuoco un loop all'infinito ma sale di giorno in giorno il limite di sub no sale ogni volta che viene raggiunto Manuel poi lo resetto ogni boh vabbè deve scrivere sì ma io deve scrivere sì ebbene or dunque sono qui per dichiararvi la chatta e lenta non è colpa mia or bene sono giù giunto per dichiararvi che sì il libro icons che voglio vedere è proprio quel libro icons che hai alle tue spalle vabbè comunque non lo vedete perché non sono nella cosa giusta ma è icons di Jim Lee sono fondamentalmente i personaggi DC e Wildstorm di Jim Lee ed è ovviamente un librone con tutte le illustrazioni che cazzo l'aveva pubblicato Panini tra l'altro sì era tipo uno dei primi volumi Panini DC mai usciti molto prima che acquisissero i diritti i diretti ma Panini pubblica Marvel Voices in che senso Marvel Voices cos'è quale sono oddio Marvel Voices ah intendi quelli sono quelli tutte le varie robe tipo quelle con le mini storie piccoline stupide sì le pubblica le pubblica in genere in giro come ci dice Comics Box sono state pubblicate ad esempio Soul Affair su Incredibil X-Man le pubblica sparse alcune non le ha pubblicate altre sì beh sì Jim Lee cioè poi questo credo fosse il terribile Batman di no forse no non lo so non fatemelo fare pagina per pagina perché non finiamo più eh però no non ho detto che non ci sono Elora e Danan ho detto che non c'è su Amazon coso morte bianca la roba di Tannigucci c'è solo che costa e io non ho voglia di spendere 22 euro a volume perché non è che non adoro come genere e spendo già un sacco di altri soldi per cui non poi qui abbiamo Wildstorm un po' più anni 90 però molto figo comunque bei tempi quando facevi Wildstorm c'era anche Alan Moore su Wildstorm per un certo periodo Gen 13 cos'è di V8 no Monsters ah si è di V8 Gods and Monsters questo è questo ce l'ho tutto Dwin Wright un fumetto strano che mi ricorda un cazzo però mi è capitato fra le mani qualche giorno fa sì ma lo so che merita lo conosco Tannigucci è solo che non è passato il messaggio metterò delle cose di Tannigucci in lista regali così se capita vuoi sapere la mia parola preferita da adesso da adesso eh V8 DGN il game il più grande fumetto mai scritto è un fumetto di manara scritto da Pratt multizzoccola bella parola un po' no ma non mi devi convincere cioè lo so che bello è anche un bell'uomo Jim Lee sapete che Jim Lee ha vissuto in Italia infatti sua moglie si chiama Carla ha sette figli sette figli ecco questo non lo sapevo sette figli tra gatti e un cane no non me li regalano i fumetti e loro e danan questa è una cazzata me li regala molto poco l'ultimo fumetto regalato che ho ricevuto è stato questo che per carità ci sta è una fanzine per cui ringrazio gli autori di avermelo mandato però non mi mandano proprio i fumetti quelli mi mandano i fumetti manga senpai però se a manga senpai gli dico ehi manga senpai mi mandi un fumetto di Taniguchi mi rispondono no e non li abbiamo gli unici altri che mi hanno mandato fumetti che lo sia Saldapress e Saldapress non pubblica Taniguchi per cui comunque ufficiale è una nuova peperaga del canale ma no povera dai tutto cominciò con un'estate indiana di Manara e Pratt vabbè è Pratt il problema è Manara non è Pratt comunque a parte i miei dissing a Manara viva Manara più grande autore vivente e ok io penso che a questo punto staccherò e vado a mangiare che c'ho fame metti in una ricompensa obbligami a leggere Taniguchi si ci sta però il concetto è sempre quello costa ma non insultarmi le persone nuove su quando iniziano Pepe Rag è fastidioso e questa è la differenza quando insiste cioè o meglio lui ha cominciato a insistere finché non ha iniziato a insultarlo è questo proprio il problema hai visto Jurassic World penso di sì così a memoria solo che ne hanno fatti 22 di film di Jurassic Park non me li ricordo più VOD ah un'ora e un minuto ok Raidino Beatrice si si può rifare ed è che ce l'ha fatto l'altra volta dai glielo facciamo così ci assordiamo tutti ok e grazie per l'abbonamento a Erco Babbo che ha regalato un mese di abbonamento ai loro grazie Erco Babbo grande va bene facciamo un raidino a Loria Beatrice è lei? l'ho beccata? sì ok va bene va bene e punto sglamativo sub per entrare nel gruppo Telegram se vuoi del cringe ok va bene io vi ringrazio ci vediamo domani alle 18 solito penso che avrò un po' di fumetti da vedere perché dovrei andare in fumetteria a comprare le ultime robe e sarà molto bello e no vi la racconto devi avere la sub per entrare nel gruppo sub sai ciao Grazie a tutti